Piacenza si conferma capitale regionale degli immigrati, lo rivela il 22esimo rapporto Caritas Migrantes. I comuni emiliano-romagnoli che superano il 10% dei residenti stranieri sono passati dai 22 del 2004 ai 176 del 2011. In testa c'è Galeata in provincia di Forlì con il 22,5% della popolazione, seguita da Luzzara nel Reggiano con il 21,6% e dalla Piacentina Castel San Giovanni con il 21,3%. Ma nelle prime 15 spiccano anche Borgonovo con il 19,2%, Sarmato con il 17,6% e Fiorenzuolo con il 17,5%. Tra i comuni capoluogo, Piacenza e Reggio Emilia sono quelli con la più alta incidenza di popolazione straniera con il 17,7%, mentre Bologna prima in valori assoluti con 52.473 unità. A Piacenza sono invece 18.353 gli stranieri, a Castel San Giovanni poco meno di 3.000 e a Fiorenzuolo 2.684. Tra le province, Piacenza è saldamente prima in Emilia-Romagna con il 14,1%, seguita da Reggio Emilia con il 13,5%. Sul nostro territorio risiedono complessivamente 41.000 immigrati, divisi esattamente a metà tra uomini e donne. I minori sono 9.888, il 22,5% del totale nella nostra provincia, altro dato record in regione. I principali paesi di provenienza degli stranieri residenti in Emilia-Romagna e Piacenza sono il Marocco, la Romania e l'Albania.